Buonasera, devo dire che il nostro workshop è stato anche per me una sorpresa, la presenza chiaramente delle istituzioni ci ha sicuramente regalato grosse motivazioni di approfondimento sul tema della conciliazione paritetica e la presenza anche e soprattutto del dottor Decker, devo dire che ci ha incoraggiato a proseguire un percorso che già da qualche anno ormai stiamo intraprendendo. Chiaramente abbiamo approfondito quello che è il ruolo oggi della conciliazione paritetica, quello che è stato più che altro la crescita di questo strumento per le associazioni di consumatori ma per le aziende e per i clienti perché in effetti poi il vantaggio di questo strumento è per tutti, non l'ascondo io come azienda il vantaggio è estremamente elevato sotto tutti i punti di vista. Certamente nel corso degli anni questo strumento è cresciuto, abbiamo portato i numeri, abbiamo portato numeri veramente imbarazzati, 95-96% di accordi positivi per quanto riguarda questi contenziosi. Abbiamo fatto presente pure che in effetti da parte di altre aziende come la conciliazione paritetica che nasce per il privato, in realtà spesso oggi riusciamo a risolvere pure controverse per utenti business, quindi per SRL, aziende, quindi con un vantaggio ovviamente per le aziende, di clienti, per tutti, di notevolissime entità, non solo dal punto di vista economico ma dal punto di vista dei tempi, dal punto di vista pure dell'attività della gestione, basti pensare che in 40 giorni di media noi riusciamo a chiudere un contenzioso. I clienti devo dire che da questo punto di vista magari arrivano con una determinata predisposizione non certamente favorevole nel momento in cui si ha una lucidazione paritetica, non mi nascondo anche dall'esperienza personale essendo nell'operatività ormai da sei anni, che molte volte i clienti restano contenti nelle aziende dove magari queste aziende erano odiate fino a due mesi prima e si notano questa predisposizione ad andare incontro al cliente. Ovviamente questo è stato possibile, questa crescita delle conciliazioni paritetiche è stato messo in evidenza questo, grazie obiettivamente alla sinergia che si è creata nel corso degli anni tra le aziende e le associazioni consumatori. Non nascondo che rispetto a qualche anno fa veramente c'è una collaborazione totale da questo punto di vista. Le associazioni consumatori per le aziende sono preziosissime, non solo per la risoluzione proprio di questi contenziosi, quanto proprio per evidenziare quelle che possono essere poi situazioni lacune o comunque situazioni magari che non sostituiscono i clienti alle quali comunque le aziende riescono comunque in tempi ragionevoli a risolvere. Prima ovviamente che magari queste problematiche possano arrivare a determinati livelli e questo non può che essere un grande risultato per noi e in questo le associazioni consumatori sanno che c'è la nostra massima disponibilità, massimo riconoscimento su questo. Devo dire che le conclusioni quali possono essere? Devo dire che ne usciamo più sereni e con più voglia di intraprendere questo percorso a proposito del riconoscimento della conciliazione paritetica in Europa. Devo dire che la presenza del Dottor Decker è stata fondamentale e di grande incoraggiamento per noi. È stata evidenziata assoluto quella che la best practice è stata riconosciuta in Europa, la conciliazione paritetica. Sono stati fatti complimenti comunque per i risultati della conciliazione paritetica. Abbiamo notato, devo dire, un'apertura da parte della Commissione europea a un riconoscimento di questa conciliazione paritetica. Ovviamente nelle forme migliori possibili si lavorerà su questo, però abbiamo notato, devo dire, questa grande apertura e abbiamo notato tra istituzioni, associazioni consumatorie, aziende, in effetti siamo sullo stesso livello, in effetti c'è una notabile sinergia e di questo dobbiamo approfittare. Dovremmo fare in modo che questo sia solo il primo incontro, una serie di incontri che secondo me potranno portare a un grosso risultato a livello europeo è un riconoscimento veramente della conciliazione paritetica a livello europeo. Non dimentichiamo anche la Francia, da questo punto di vista è abbastanza l'antico, ovviamente la Francia pubblicizza meglio la conciliazione paritetica rispetto a noi. Abbiamo notato forse che non è tanto l'Europa il problema, quanto forse addirittura in Italia ci sono dei freni, notiamo, non lo so, forse delle limitazioni su questo, invece dobbiamo avere il coraggio di portare, di pubblicizzare questo strumento di risoluzione delle controversie e di far sì che, per carità, prendendo quelle che è la direttiva europea, considerando la direttiva europea, che proprio da questo punto di vista possiamo sicuramente fare un ottimo lavoro nell'arco del prossimo anno e mezzo, abbiamo questi tempi, e far sì veramente che la conciliazione paritetica viene riconosciuta a livello europeo e portarla veramente non solo a best practice in Italia, ma proprio a livello europeo farne veramente un modello. Siamo sulla buona strada, devo dire che io dal 2007, diciamo, che mi occupo di questo e nel corso degli anni, per carità, parlo chiaramente delle telecomunicazioni, in questo senso devo dire che la tutela del consumatore, ho notato, ha fatto grossissimi passi avanti e dobbiamo essere fiduciosi, secondo me, su quello che può essere il risultato finale a livello europeo e di riconoscimento a livello europeo. Ed è uscita, devo dire, questa fiducia è forte dopo l'incontro di oggi, speriamo di portarla avanti fino alla fine. Grazie.